Cipolloti ragazzi, sono Darksman, oggi siamo tornati su Asdroneer, c'è una mosca, sì, comunque, cipolloti ragazzi, ok, basta dai, e oggi abbiamo un piccolo problema, sì, quello là, adesso io morirò, che non sono morto, questo qua, diciamo che è esploso, sì, è bello che ci può passare attraverso, voi dite, vabbè, toglielo e rimettilo, eh, il problema è un'altra, Guarda, guarda, no, non sparare, non devi guardare, vieni qua, arrivi, guarda, guarda, no, non doveva fare il video, no? Aspetta, voglio fare una cosa, aspetta, ho l'idea di ricordo, aspetta, dammelo, no, 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 e però è bello dai è caduto fino a giù lo sai a eccolo l'ho visto preso invece se io ho fatto un pirato tranquillo sbarba ho fatto un pirato ah ecco la stava scendendo volevi piccola trollezza ma perché stava già qua e io sto in tralone io stavo in sbarba stiamo morendo io vado ciao sbarba io scavo in sbarba con rocola con rocola con rocola no non voglio ricadere ma sono ricaduto guarda ma dove sei eccomi andiamo aspetta tu prendi la carrucola io ti apro io volevo dire io faccia la mia ok tocca a te io ho fitto energia vai ma ok ok dai siamo arrivati noi siamo finiti ok eravamo siamo dal c'è molla un attimo molla un attimo guarda che faccio guarda ammira uiii sbarba sembrano dei viewstell delle salsicce sparma basta non si possono scollegare vediamo si come ho fatto un altro come un altro ho fatto un altro madò adesso ho bugato dove? guarda sentiti fuori un altro lo vedi qua no? sentiti fuori fermo appoggia metti qua no aspetta se lo metti qua no? no lo devi disgrabbare come sgrabbare? ah ok si facciamo così ok lo dovrei andare a cliccare faccio così no? guarda prima l'avevo bugato ah aspetta lo so fare ah come hai fatto a togliere? qui cado il perno cioè? basta che clicchi qua? cioè tipo se io facessi così io ne faccio un altro no dai come si toglie? no dai basta sparò forziamolo alla base barba barba ma non si staccano con l'al ho un'idea dammi i 4 di composto ce le ho là perché? no cos'è che vuoi fare? no dai sparva come si tu hai detto che li hai staccati come si faceva? ma sono bugati questi quello è il problema facciamo una cosa molto bella davvero no sparva no muo vedi mi fai fare? magari si sbuga? magari lo spero allora primo posto carrucola no tutto serve batteria Dario c'è una batteria? ma non si può spero non lo posso caricare no aspetta aspetta no me ne fugo vai prova oddio oddio no no vai via dai vai via guarda capi no dai 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 ma che fai? tu qua fai vedere l'effetto io lo porto via vediamo ma perchè? ma cos'è? ma perchè? questo video lo chiamerò le salsicce molto buone queste salsicce magari si sta staccando ok magari si sta staccando sparva a me sono rimaste ferme qui si è staccato davvero? si ma questo sono salsicce sembrano cose brutte eccolo sbarva non si può attaccare non si può riattaccare sbarva abbiamo fatto un casino poi sembrano anche molte cose brutte che ti arrivano in faccia un tunnel oh no 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 non vedo niente oh no 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 ai non vedo niente ma no io sto cadendo nel buio cosa è sta roba? ah non lo so dimmelo tu ha finito la battaglia il rover ok vabbè dai mi spagate io credo che per questa volta basta aspetta dobbiamo fare lo spacchettamento delle spacchetti spacchettamento e poi concludiamo il video ragazzi scusateci per questa cosa perchè comunque abbiamo poco tempo come al solito facciamo i video con poco tempo è colpa di sparva è colpa su sappiatelo fanno giocare pochissimo sappiatelo è colpa dei nostri genitori apra 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 apro vediamo qua litio e resina spiegati faccio un altro corri dammi corri vado rilassa rilassa meh dai non baggarti e non ti baggare ok sono finiti e cosa c'era io non ho visto niente alluminio e rame ah bello e quindi basta non c'è altro sono finiti vabbè più poco io prima perchè erano troppi facciamo un po' di resina mettiamo la nera c'è la tempesta di sabbia in corso vabbè e noi ci vediamo in un prossimo video ciao gente ovviamente